8 artisti di fama mondiale, nomi di grande spessore nel panorama dell'arte contemporanea e internazionale per una mostra pittorica in esposizione fino al 20 maggio alla stazione Tav di Afragola, poi sarà la volta di Los Angeles, Laia e Dakar. Il concetto è quello di dare la possibilità a chi intraprende un viaggio, a chi si trova in uno splendido luogo come quello della stazione di Zahadid, Archistar nota a livello internazionale, di vivere un'esperienza artistica, un'esperienza di arricchimento culturale. Una mostra itinerante che mette in relazione tra loro gli otto artisti provenienti da continenti diversi appartenenti a differenti culture e religioni. Autori di opere con un grande significato simbolico in una società che alza muri culturali e barriere fisiche. Oggi si inizia questo percorso, arte come strumento di comunicazione, come strumento di visibilità della nostra grande città, una città che sa ospitare, una città che sa accogliere.